L'ordine del giorno reca le audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge 2160 Molinari, 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di rappresentanti delle comunità San Patrignano, di Marco Rossi, ricercatori di economia politica presso l'Università degli Studi di Roma alla Sapienza e di rappresentanti dell'Unione Camere Penali Italiane. Avverto in via per eliminare che, secondo il parere dell'Aggiunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la Web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta, dove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la Web TV della Camera dei Deputati. Pregherei ai nostri ospiti di contenere il loro intervento entro dieci minuti per dare modo ai deputati di porre delle domande, cui seguirà la replica degli auditi, che potranno consegnare alla Segretaria della Commissione un documento scritto farlo a pervenire successivamente. La documentazione in assenza di obiezioni sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera. Do quindi la parola all'Avvocato Gianluca Malavasi, in rappresentanza della Comunità di San Patrignano. A dieci minuti. Grazie. Grazie Presidente. Onorevoli Deputati, sono un Avvocato, un Avvocato che mi occupo da quasi una trentina d'anni di problematiche collegate alla tossicodipendenza e svolgo da quasi trent'anni, assisto tutti gli ospiti della Comunità di San Patrignano, svolgendo anche un'attività di consulenza penale per la Comunità. Ovviamente oggi dobbiamo trattare di queste due proposte di legge una prima osservazione che sottopongo a questa Commissione. Intanto sono due proposte proprio di tenore opposto. Una, la 2307, numero 2307, che propone di fatto un'attenuazione, diciamo, quasi una, diciamo, proseguendo in un percorso di liberalizzazione, abbassa notevolmente le pene. Mentre invece la proposta di legge 2160 è una proposta opposta perché Entram alza le pene e va così pertanto a toccare anche problematiche relativamente alle misure cautelare personali. Una prima premessa, una premessa che per la struttura che rappresento non è possibile assolutamente, soprattutto nell'ambito penale, porre delle norme spot, delle norme spot nell'uno o nell'altro caso, senza, per cercare di migliorare l'attuale situazione. Passiamo all'analisi del PDL 2307. Non voglio, è abbastanza chiaro sinteticamente, però vi è un abbassamento, cosa dicevo, delle pene. A dire dei firmatari della proposta di legge è stata redatta e proposta alla Camera dei Deputati, finalizzata a ridurre il numero dei detenuti in carcere. Nella realtà, non voglio dilungarmi perché è abbastanza semplice, nella realtà lo vediamo anche nei firmatari di questa proposta di legge che fanno parte tutto dell'intergruppo interparlamentare per la liberalizzazione delle droghe leggere. è un tentativo, diciamo, mandare un segnale che le droghe leggere non fanno male. Impone all'interno ovviamente di questa proposta di legge, di nuovo anche nell'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'articolo 73, pone una differenza tra droghe leggere e droghe pesanti. evidentemente con questo abbassamento delle pene non è più possibile applicare misure cautelari. Nella parte finale di questa proposta di legge però è casualmente, direi, perché si pone anche una nuova disciplina per la coltivazione di droghe leggere per uso personale. La proposta è del 19 dicembre, ma su questo punto si è recentemente espressa anche la Suprema, le sezioni unite della Cassazione, non abbiamo ancora le motivazioni, Presidente Cartero, Relatore Andronio, però anche su questo punto direi che forse non ci sarebbe necessità di una norma, essendosi già espressa la Suprema Corte di Cassazione. A nome della comunità esprimo una forte contrarietà. Noi riteniamo, per quanto riguarda la problematica della tossicodipendenza, che il messaggio che deve essere lanciato, soprattutto alle fasce dei più giovani, oramai vediamo, ed è nell'ambito ormai comune, che si sta sempre più abbassando l'età nella quale i ragazzi minorenni 14-15 anni fanno uso di sostanze stupefacenti. Ovviamente noi espribiamo, come abbiamo detto in varie commissioni all'interno ovviamente del Parlamento, riteniamo che il messaggio è senz'altro sbagliato, ma è anche sbagliato perché si va a minare anche la salute degli adolescenti con, come sono studi ampiamente hanno ribadito, sono droghe che fanno male. Passiamo ora alla proposta 21-60, che è esattamente all'opposto di quella che ho brevemente commentato adesso, invece si pone l'obiettivo di aggravare le pene e anche di eliminare trattamenti favorevoli per il tossicodipendente. Abbiamo, vi è anche una richiesta di modifica dell'articolo 380, nel quale si elimina alla lettera H del comma 2, si vorrebbe eliminare e rendere obbligatorio, anche nel caso di comma 5, l'obbligatorietà dell'arresto. Anche vi è un aggravamento come del trattamento sanzionatorio e poi si sposta il minimo all'editare attualmente del comma 5 dell'articolo 73, portandolo al minimo del 73,1, cioè si sposta da 4 a 6, che è poi il minimo delle pene previste per il comma 1 dell'articolo 73. Poi vi è l'abrogazione dell'articolo 73,5 bis, che in buona sostanza escluse la possibilità del lavoro di pubblico utilità per il tossicodipendente. Partendo da questo elemento, per quanto riguarda sempre la struttura che rappresento, riteniamo che sia assolutamente sbagliato togliere benefici per il soggetto che commette reati a causa della propria assunzione di sostanze stupefacenti, perché il problema poi, diciamo, rimane. Debo anche segnalare, proprio per quanto riguarda l'articolo 380,2, lettera H, che mai si è ritenuto, parliamo nel DPR 309,90 e poi successivamente con le modifiche apportate con la legge Fini-Giovanardi di eliminare questo aspetto, perché potrebbe portare a conseguenze paradossali. Un esempio anche per proprio trattare, avete senz'altro letto, due giorni fa in un paesino di Bergamo hanno fermato dei pullman di ragazzini che andavano a scuola, hanno trovato quasi 70 grammi di sostanze stupefacenti ed erano tutti minorenni. Facciamo un esempio nel caso, nel caso in cui si fosse ritenuto che un soggetto non era semplicemente un utilizzatore della sostanza stupefacente, come vedrete nei giornali che senz'altro avrete letto, ma hanno trovato anche dei bilancini, avrebbero dovuto portare, arrestare obbligatoriamente il soggetto e poi portarlo davanti al giudice. Questo sicuramente creerebbe un danno, perché anche il segnale che deve essere dato, sempre per la struttura che rappresento, è che il tossico dipendente non deve essere minimamente criminalizzato, deve essere esclusivamente aiutato nel proprio percorso di recupero, perché il suo problema, ma riportiamoci anche all'articolo 27 della Costituzione, deve essere un reinserimento, un seguire, un seguire un percorso di recupero che possa, attraverso l'abbandono dell'uso di sostanze stupefacenti, aiutarlo un domani a poter riprendere una vita all'esito di un percorso di recupero, a causa prima delle problematiche che hanno portato lo stesso alla tossicodipendenza e alla conseguente commissione dei reati. Anche in questo caso, riportiamo, da una parte si abbassa, da una parte si alza, il messaggio che riteniamo che debba essere lanciato e che non è assolutamente possibile, attraverso una semplice nonorma penale, modificare o comunque risolvere una situazione che è assolutamente drammatica. perché se noi abbiamo dei minorenni che a 14-15 anni usano sostanze stupefacenti, ritengo che non sia attraverso la criminalizzazione che si possa. È assolutamente necessario, se si vuole veramente intervenire su questo problema, di riuscire a, o comunque di farsi carico, di farsi carico, di svolgere al di là di, diciamo, ideali che possono essere o di liberalizzazione o comunque, passatemi il termine, fra virgolette repressive, ma vanno preso a 360 gradi tutta la legislazione della droga perché solamente in questo modo sarà possibile cercare di arginare quello che, per quanto vediamo i dati che noi abbiamo, sempre più giovani arrivano presso la Comune, entrano a fare programmi di recupero e soprattutto sempre con maggiori problematiche anche di carattere psichiatrico. In questo caso, se vogliamo veramente intervenire, deve essere fatto complessivamente e trovando e cercando di prendere senza altro norme penali, ma anche di sviluppare, di migliorare senza ombra di dubbio, un quadro completo che possa arginare il fenomeno che purtroppo sta diventando ogni giorno più grave. Grazie. Grazie. Grazie, Avvocato Malavasi. Do la parola al Dottor Marco Rossi, che se vuole può accomodarsi qua vicino alla Presidenza. Grazie, Avvocato. Quindi do la parola all'Avvocato al Dottor Marco Rossi, ricercatore di Economia Politica per l'Università degli Studi di Roma alla Sapienza. Dieci minuti. Buongiorno, grazie dell'invito. Io non sono un giurista, non entrerò nel mezzo delle questioni, ma piuttosto, essendo un accademico, cercherò di darvi una cornice teorica dentro la quale inquadrare il dibattito in oggetto. Quindi mi occuperò, dal punto di vista teorico, dell'uso delle sanzioni come strumento per il contenimento di attività nocive per la collettività, in primo luogo. L'uso di strumenti alternativi e infine parlerò della coltivazione domestica della cannabis, un tema che sta emergendo sempre più prepotentemente in Italia. Ho delle slide che purtroppo non si possono proiettare, quindi ve le ho passate, sono stampate, seguirò l'esposizione delle slide. Primo luogo, possibili esiti sull'offerta di sostanze stupefacenti in seguito all'aumento delle pene per lievi di fatti entità, ovvero sia analisi dello strumento sanzionatorio come strumento appunto di contenimento degli scambi di attività nocive per la collettività. La conseguenza desiderata è quella di una riduzione del volume degli scambi. lo strumento è tramite un aumento del costo attesto delle transazioni. Questo aumento del premio per il rischio può essere traslato in avanti dagli spacciatori sul prezzo di offerta. L'aumento del prezzo di offerta consiste in una riduzione dell'offerta stessa e quindi nel conseguimento dell'obiettivo. Purtroppo accapita che quando si usa lo strumento sanzionatorio riguardo attività largamento sufficientemente diffuso tra la popolazione si verifica quello che è chiamato l'effetto palla o balloon effect. È come se voi siete al mare avete l'acqua fino al collo avete una palla davanti non vi piace vedere questa palla con la mano schiacciate la palla la palla va sotto il peo dell'acqua ma non è che è sparita è sotto il peo dell'acqua una volta che lasciate la mano la palla ritorna sopra sempre la stessa palla non si è modificata. In altri termini accade che quando si proibiscono attività nocive sufficientemente diffusse tra la popolazione i consumi il traffico il commercio passa dal mercato legale al mercato illegale come accaduto nel caso degli alcolici nel vento negli Stati Uniti o nel caso degli stupefacenti in numerosi paesi. All'opposto come controprova abbiamo che quando si rilascia la proibizione i consumi riemergono dall'illegalità e ritornano alla legalità si noti che punto interessante la quantità di consumi non si altera in questo processo in buona sostanza la quantità di consumi dipende dalla domanda dell'offerta è come dire che il mercato va oltre le regole il mercato può andare oltre le regole se si verifica questo ballone effect abbiamo delle conseguenze indesiderate sull'offerta di particolari stupefacenti in primo luogo abbiamo un fenomeno di selezione avversa per cui i venditori migliori escono dal mercato quelli che temono maggiormente l'aumento delle pene rimangono sul mercato i venditori che viceversa temono in misura minore questo aumento delle pene tipicamente i migrati irregolari che hanno poco da perdere oppure la criminalità organizzata professionisti dei crimini che sono capaci di gestire il sistema delle pene di conseguenza la qualità delle transazioni si deteriora con due effetti negativi il primo effetto negativo tipico è la contraffazione della sostanza non a caso durante il provvizionismo negli Stati Uniti d'America e i casi di cirrosi epatica crebbero in maniera significativa il secondo effetto negativo che si può verificare è un cosiddetto gateway effect l'effetto ingresso ovvero sia che recandosi dallo spacciatore che vende cannabis e anche altre sostanze questo spacciatore spinto dalla ricerca del profitto tende a vendere la potenziale acquirente di cannabis di droghe leggere e anche droghe pesanti quindi abbiamo con il deterioramento dell'offerta anche un possibile aumento dell'effetto ingresso per quanto concerne i possibili effetti sul consumo dell'aumento delle pende per lieve entità abbiamo ovviamente come nel caso precedente un aumento atteso del consumo non soltanto perché aumenta il prezzo ma anche perché aumenta il costo di transazione per il consumatore che può subire le stesse pende quindi abbiamo un aumento del prezzo e un aumento del costo atteso delle sanzioni questo ovviamente riduce la domanda di sostanze stupefacenti inoltre abbiamo un effetto annuncio un effetto pedagogico quello ampiamente di cui ha parlato ampiamente il relatore prima di me che senz'altro anche esso può come moral suasion tendere verso una compressione dei consumi come conseguenze indesiderate tornando al caso precedente la diffusione di sostanze contraffatte provoca casi di intossicazione ora dipende dalle sostanze nel caso della cannabis l'intossicazione normalmente è molto modesta ma quando parliamo di altre sostanze come ad esempio eroina i casi di intossicazione possono essere molto gravi e inoltre come conseguenze indesiderate del balloon effect abbiamo un aumento della criminalità trova correlata con la violenza che ne consegue la contaminazione del tessuto sociale ed economico in termini di analisi costi benefici quindi ritirando le somme possiamo dire che un aumento delle pene per i fatti di lieve entità ha come benefici attesi una maggiore efficacia nel contrasto al traffico di stupefacenti ma di questo parleranno gli avvocati dopo di me un aumento dello stigma morale connesso al consumo di stupefacenti come ha parlato il redattore prima di me e una riduzione auspicata del narcotraffico e dei consumi come conseguenze indesiderate e quindi con i costi attesi dell'aumento delle pene per i fatti di lieve entità abbiamo in primo luogo il costo economico delle sanzioni ai consumatori come erano prima avanti specialmente nel caso della cannabis è importante ovvero sia se le sanzioni colpiscono anche i consumatori abbiamo una platea di consumatori in Italia molto elevata circa 500.000 possibili soggetti che possono essere passibili di sanzioni detentive per detenzioni illecite di sostanze stupefacenti anche di modi a quantità ora se voi applicate delle pene restrittive a una massa così grande di persone avete un effetto economico molto rilevante non soltanto applicando restrizioni a libertà personali dei consumatori venditori riducono le loro capacità reddituali e quindi credito di questi individui ma si riduce anche il benessere economico della collettività come avremo più avanti molti consumatori sono socialmente integrati hanno una famiglia un lavoro quindi se subiscono delle pene restrittive non possono adempere adeguatamente a doveri familiari nei confronti datori di lavoro complessivamente quindi abbiamo riduzione del benessere economico e sociale della collettività a causa delle sanzioni un po' combinate ai consumatori inoltre come costo atteso se si verifica il ballone effetto l'effetto pallo abbiamo un aumento dei costi sanitari per l'intossicazione i quali ricadono in parte sugli individui ma in parte anche sulla collettività tramite il servizio sanitario nazionale e un aumento del ruolo della criminalità organizzata nei traffichi di stupefacenti con le conseguenze ben note quindi in conclusione la letteratura economica sulla regolamentazione delle attività nocive per la collettività è una lunga tradizione che parte da PQ negli anni 30 e la parola definitiva è stata espressa dal premio Nobel Gary Baker di articoli cui ultimo è del 2006 con Grossman e Murphy e del Journal Public Economics il quale si afferma in maniera molto sintetica per essere semplici che tassare è meglio che proibire ovvero sia l'utilizzo dello strumento fiscale e superiore all'utilizzo dello strumento delle sanzioni in quanto entrambi gli strumenti riescono a ottenere lo stesso contenimento dei consumi facendo tramite la leva del prezzo lo strumento sanzionatorio agisce sulla leva del prezzo tramite l'aumento del costo d'atteso delle sanzioni che viene ribaltato traslato in avanti la leva fiscale agisce direttamente sul prezzo di offerta imponendo una aliquota fiscale sulle imposte e sulle vendite le quali se opportunamente modulata può ottenere lo stesso effetto prezzo cioè lo stesso contenimento dei consumi ma lo strumento fiscale consente la riscossione di un doppio dividendo non soltanto efficace quanto lo strumento sanzionatorio nel contenere gli scambi e i consumi ma in più consente la riscossione di un gettito erariale il quale può essere utilizzato per compensare la collettività dei danni subiti dal consumo di sostanze stupefacenti in un vecchio articolo del 2013 ho stimato per l'Italia i benefici fiscali derivanti dalla legalizzazione della cannabis ovvero sia dell'estensione al mercato della cannabis della regolamentazione adottata per il mercato dei tabacchi lavorati oggi in Italia in circa 3 miliardi di euro all'anno una posta non indifferente andando avanti andiamo in dettaglio sulla cannabis parlo della cannabis scusate se vado veloce ma le cose che devo dire sono tante parlo della cannabis perché è la stupefacente più largamente utilizzata in Italia in Italia abbiamo attualmente secondo le stime correnti circa 5 milioni di consumatori di cannabis annuali state ben attenti in questi 5 milioni è compreso anche chi ad esempio adesso siamo a Carnevale fumo uno spinello a Carnevale prossimo a Capodanno quindi questo dato non è molto interessante il dato più interessante riguarda i consumatori abituali quotidiani che sono stimati in circa 500.000 ora se 500.000 sono i consumatori quotidiani e quindi quotidianamente detengono cannabis abbiamo 500.000 persone passibili di pene per fatti di lieve entità mentre i spacciatori sono al massimo 100.000 quindi di fatto non stiamo colpendo i consumatori più che i spacciatori poi la cosa interessante mi collego alla proposta dell'onorevole Mangi perché abbiamo come possibile reazione dei consumatori all'aumento delle pene per fatti di lieve entità il fatto è che essi si possono rifugiare nella coltivazione domestica la quale è molto meno visibile degli acquisti di piazze i dati su questo fenomeno questo fenomeno è crescente in Italia molto importante adesso ha raggiunto un livello di transazioni non indifferente per darvi ancora i dati abbiamo 700 cross shop attivi adesso in Italia ovvero sia 700 negozi specializzati nella vendita di prodotti utili alla coltivazione della cannabis è un settore che è in forte espansione una decina di anni fa erano circa 100 quindi nell'ambito di un panorama economico italiano di forte crisi non a caso i cross shop sono prolificati si sono moltiplicati è uno dei pochi settori di successo dell'economia italiana a meno per quanto riguarda l'istribuzione e il dettaglio se volete avere una visione del fenomeno vi invito ad andare a Canapamundi la più grande fiera del settore che si tiene ogni anno a Roma l'anno scorso e ottenne circa 30.000 visitatori paganti e lì avete una chiara visione del fenomeno le mie stime indicano che circa il 20% dei consumatori quotiani di cannabis coltiva anche la cannabis quindi tirando le somme possiamo affermare che in Italia abbiamo adesso circa 100.000 persone che già coltivano la cannabis non è un numero indifferente e la loro produzione ricopre almeno un quinto del consumo nazionale chi sono questi coltivatori abbiamo fatto diverse indagini abbiamo esaminato la letteratura tirando le somme quasi tutti i coltivatori di cannabis sono consumatori e soprattutto sono consumatori abituali ovviamente non conviene al consumatore occasionale spendere i soldi e perdere tempo per coltivarsene in casa è preferibile comprarla in piazza la larga maggioranza di questi coltiva per autoconsumo infatti l'agrobox lo scatolone dentro il quale si coltiva la cannabis tipicamente venduto quello più venduto in indagini di mercato ha una misura variabile tra gli 80 per 80 120 per 120 ovvero si è una dimensione attua a produrre su base annua circa 300-400 grammi di cannabis che guarda caso è il consumo di un consumatore abituale di cannabis circa un grammo al giorno le eccedenze le eccedenze sono vendute nel mercato sociale della cannabis cioè ad amici senza un rilevante margine di profitto su questo tema mercato sociale della cannabis ho allegato alla relazione un mio articolo inedito che sto scrivendo questi giorni vogliate perdonarmi se è il seppio d'errori ma avete chiamato venerdì oggi è lunedì io ho fatto qualche potere andando avanti è interessante notare il livello di correlazione positiva fra coltivazione domestica e di integrazione sociale ovvero si nota come l'aumento dell'integrazione sociale dei soggetti questi escono dal mercato legale o illegale e si rifugiano nella coltivazione domestica riducono il tutto una sorta di vizio privato un po' come l'onanismo se volete gli indicatori di integrazione sociale che abbiamo preso in considerazione sono l'età del consumatore la cresce l'età cresce la coltivazione domestica e si esce dal mercato questo è un mio articolo pubblicato in Germania l'anno scorso del 2019 a crescere il titolo di studio a crescere del livello di occupazione del tasso di occupazione cresce il ricorso alla coltivazione sociale quindi si potrebbe affermare che a crescere dell'integrazione sociale i soggetti consumatori di cannabis escono dal mercato della cannabis per rifugiarsi nell'autoproduzione e nell'autoconsumo perché si rifanno questo ultimi due minuti e concludo fanno questo per motivazione ovviamente economica coltivare cannabis è più economico che comprarla la coltivazione indoor ha un costo di produzione intorno a 1-3 euro al grammo gli acquisti sono a meno 10 euro al grammo ma soprattutto lo fanno per questioni di qualità sia la qualità del prodotto per evitare di consumare prodotti contraffatti ma soprattutto per i cannabis dipendenti per avere un flusso controllabile regolabile costante di cannabis il cannabis dipendente è un po' come il tabagista è il terrore di rimanere senza cannabis questo è il punto concludo rapidamente altri motivi sono la visibilità ovvero sia coltivando in casa si riduce il rischio di arresto e si riduce lo stigma morale che una persona socialmente integrata può patire nel caso in cui sia pizzicato a compare cannabis dallo spacciatore marocchino in piazza ad esempio e infine un altro aspetto interessante è il legalitarismo è un aspetto paradossale ma i coltivatori di cannabis sostengono di fare questo anche per motivi legalitari ovvero sia in primo luogo per evitare contatti con la criminalità e in secondo luogo per evitare di finanziare la criminalità stessa fa parte di un processo di normalizzazione che ormai è abbastanza diffuso nell'ambito dei conservatori di cannabis arrivo con l'ultima che doveva essere una slide ma non c'è e sto concludendo quindi facendo analisi costi benefici anche su questo tema si può concludere dicendo che la coltivazione di cannabis causa dei costi sociali minori rispetto all'acquisto di cannabis sul mercato in quanto è meno visibile genera meno violenza e così via il contrasto alla coltivazione di cannabis è più difficile il contrasto al traffico di stupefacenti in quanto è meno visibile quindi il costo il danno per la società è minore il costo del contrasto è maggiore la letteratura oramai è convenuta nell'affermare che dovrebbe essere che si dovrebbe attuare una politica di maggior tolleranza per la coltivazione domestica della cannabis per uso personale rispetto agli acquisti di piazza scusate mi ho terminato grazie do infine la parola ai rappresentanti dell'Unione delle Camere Penali italiane sono oggi presenti gli avvocati Paola Rubini componente della giunta Giorgio Varano responsabile comunicazione e Federico Baffi componente osservatorio corte costituzionale chi intende intervenire si avvicini pure quindi l'avvocato Baffi ha dieci minuti grazie l'Unione delle Camere Penali italiane ringrazia la Commissione per l'invito e per l'ascolto dei rilievi che di qui a poco verranno mossi è evidente che le considerazioni non potranno che essere eterogenee essendo eterogeneo il contenuto dei due progetti di legge e il tenore sia riguardo lo specchio dei principi che dei contenuti antitetici sia in termini materiali che prettamente ideologici l'articolo 77 del regolamento della Camera ci consente la trattazione in abbinamento e quindi già ontologicamente un confronto tra queste due opzioni contrapposte l'Unione delle Camere Penali deve però porre una questione di metodo c'è un'occasione importante con questa trattazione ma va rilevato che siamo nel 2020 e l'ultima conferenza nazionale sulle droghe è stata convocata nel 2009 ed è l'articolo 1 del dpr 309 del 90 a prevedere al comma quinto che il presidente del consiglio o nella sua qualità di presidente del comitato nazionale di coordinamento per l'azione antridroga dovrebbe convocare anzi dice la legge convoca la conferenza nazionale tale l'inerzia della presidenza del consiglio non di questo non è prerogativa unica di questo governo ma voglio dire di quelli che si sono succeduti al 2009 che quest'anno la conferenza si è autoconvocata spontaneamente e allora la riflessione va fatta la riflessione va fatta perché in assenza di un sostrato scientifico e di una informazione tecnica sul fenomeno l'approccio scientifico non c'è l'approccio scientifico non c'è e quale materia prevede che la si regoli senza un'analisi di dati attuali allora sarebbe un neutro inadempimento ma neutro questo inadempimento non è allora per creare un minimo di firruge con l'intervento precedente io non posso che affidarmi all'eterno beccaria il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire delitti che ne possono nascere ma egli è crearne di nuovi egli è definire piacere le virtù del vizio che vengono predicati eterni ed immutabili ora perché il riferimento è l'allaccio all'intervento precedente perché per quel che riguarda il progetto di legge 2160 prima di entrare nel merito come sovente avviene per le leggi penali la norma non ha individuato come giustificare la clausola di invarianza finanziaria e non ha indicato coperture è evidente che un eventuale aumento di gettito scaturente dall'inalzamento della prena precunaria prevista dal progetto di legge non coprirebbe i costi che il sistema si troverebbe a dover sopportare in caso di applicazione del progetto sono noti a tutti i numeri relativi alla diffusione del fenomeno di cui ha la mia entità e altrettanto risibili sono i numeri relativi alla potenzialità contributivo riparatoria dei condannati in relazione alle spese di giustizia e alle spese di mantenimento in carcere ora andiamo ad analizzare i dati tenuto presente che il contenuto del progetto di legge è conosciuto a tutti cosa fa il progetto di legge il progetto di legge si mira ad inasprire se stuplicando la pena minima e aumentando della metà la pena massima per il quinto comma articolo 73 qualche dato ogni anno la popolazione carceraria aumenta di 2000 unità 1300 per violazione sono le unità per violazione del DPR 309 e 90 statisticamente il 35 e 21% del totale della popolazione detenuta queste sono fonti del libro bianco sulle droghe a cui fa richiamo il progetto di legge 2307 e dallo Stato unica base lato senso scientifica sulla quale è possibile lavorare in questo ambito del pari la crescita della tossicodipendenza è di 2000 unità in più all'anno tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2008 si bati bene che queste sono fonti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e allora facendo un'operazione statisticamente sociologicamente fallace ma volutamente fallace il libro bianco sulle droghe ci porta ad un dato veramente importante se sommassimo ciò che non è sommabile troviamo scritto perché vi è una zona di sovrapposizione tra i due gruppi i detenuti tossicodipendenti e quelli che hanno violato la legge sulle droghe arriverebbero ad arrivare al traguardo di 38 mila detenuti oltre il 60% della popolazione carceraria totale con sufficiente approssimazione possiamo affermare che almeno il 50% dei detenuti in Italia ha una relazione con le scelte determinate dalla politica sulle droghe ora questo non è un dato neutro perché sappiamo bene che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci ha condannato in passato e alcuni provvedimenti normativi anche in maniera e anche in materia di testo unico sulle droghe sono stati sono scaturiti da questa condanna è da ricordare che addirittura la Corte di Cassazione attraverso il Presidente Santa Croce all'indomani della sentenza 32 2014 ha dovuto modificare le competenze della settima sezione proprio in virtù di questo dato e allora un dato scientifico noi non possiamo trattare il fenomeno come a seguito della sentenza 32 2014 viene trattato abbiamo una normativa che in massima parte è ancora quella del 1990 e la normativa del 1990 nasceva sulla base del fenomeno AIDS in molti ricorderanno l'articolo di Arnao la siringa dell'urna oggi non c'è più la siringa dell'urna nonostante ci sia un ritorno all'eroina ma non più nelle quantità e nelle proporzioni che vi erano nel 1990 ricordiamo una serie di eventi che hanno in qualche modo costellato le nostre giovinezze e allora il 2160 ricorda una meravigliosa definizione del Professor Zaffaroni che è il legislatore che dipinge i tratti enorme come il pittore e cacciatore del Neolitico il quale pensava che l'aver ritratto la cosa significasse possederla pensava che avere acquisito potere sull'oggetto tramite il dipinto poca porta vassi a far sì che l'animale della realtà soffrisse la stessa morte dell'animale dipinto l'animale della realtà non soffre la stessa morte dell'animale dipinto perché se come è previsto nel 2160 secondo l'unione delle camere penali le condizioni peggiorative in termini erittali e conseguentemente in termini di applicazione di misure coercitive porteranno un stato di suscettibile di un sindacato di costituzionalità secondo quello che ora lo statuto della pena e della pena per quel che riguarda i reati in materia di stupefacenti conseguente alle sentenze 179 e 184 del 2017 e 40 del 2019 tutto questo perché perché i dati dell'unione europea ci dicono una serie di informazioni importanti sempre in mozione di metodo non possiamo non tenere in contatto non tenere in considerazione i dati della european drug report trans and development 2019 a opera dell'osservatorio europeo sulle droghe e delle tossicazioni negodipendenze se prendiamo ad esempio uno stato che ha avuto politiche antitetiche rispetto a quelle italiane cioè quello portoghese gli indici di consumo nell'arco della vita in Portogallo risultano meno della metà della media UE pari a un terzo del consumo in Italia gli indici di consumo nei precedenti 12 mesi risultano pari a poco più della media UE ed allora passiamo al merito il 2160 il progetto di legge 2160 appale palesemente in contrasto con il dettato della decisione quadro 2004 757 Gai e riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico di lecito di stupefacenti tornando al compendio delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno riguardato il tema e che sono tutte redatte dall'oggi Presidente Marta Cartabia non si può non sottolineare come tale aumento di pena e tale riduzione dei benefici per i tossicodipendenti faccio riferimento al 5bis e al 5ter potrebbe comportare ciò che alla sentenza della Corte Costituzionale 179 ha fatto definire alla Corte la possibilità di poter incidere direttamente sulla misura della pena tutto questo perché? perché appaiono suscettibili di giustiziabilità e sindacato della Corte Costituzionale le opzioni compilative di cui all'articolo 2 del progetto di legge 2160 per violazione dell'articolo 3 in relazione al principio di ragionevolezza o guaglianza dell'articolo 27 in quanto la disposizione una volta novellata non rispetterebbe il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato quale è disumibile dal rango del bene giuridico tutelato dalle modalità di aggressione e dall'intensità della colpevolezza con pene disumane o degradanti e via di più è possibile una violazione degli articoli 11 e 117 primo comma con riferimento all'articolo 49 paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che sancisce il principio di proporzionalità della pena in quanto la previsione di periodi di reclusione superiori in misura abnorme alle soglie minime stabilite dalla decisione quadro del Consiglio 25 ottobre 2004 757 Gai determinerebbe una violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione ed allora in conclusione non può non tenersi presente che per quello che oggi lo statuto del rispetto dell'articolo 49 potrebbe essere direttamente applicabile all'ordinamento di uno Stato membro in quanto a disposizione del diritto primario dell'Unione senza la necessità di adire la Corte Costituzionale facendo sì che qualsiasi giudice comune potrebbe dichiarare l'inapplicabilità al relativo caso concreto della pena minima di tre anni di reclusione prevista dalla novella del 2160 per il comma 5 dell'articolo 73 del DPR in conclusione il progetto di legge appare essere affetto da tutte le peculiarità e dai vizi che hanno contraddistinto il fallimento della politica repressiva nella gestione del fenomeno a partire dal problema in termini sistematici dell'individuazione del bene giuridico dell'eterio appare il proposito di eliminazione come detto della lettera H dell'articolo 380 del codice di procedura dell'inciso salvo che per i delitti di cui ha il comma 5 del medesimo articolo ci sarebbe da chiedere a un rappresentante dell'associazione nazionale magistrati che cosa ne sarebbe delle convalide e delle direttissime avremmo probabilmente delle file in queste sedi di lunghe giornate dell'eterio appare anche la propagazione del 5 bis io chiudo ringraziando a nome dell'Unione per l'ascolto e passo la parola alla collega Paola Rebecchi della giunta dell'Unione Rubini Rubini del più forte ecco allora do la parola io sì solo per 23 07 grazie grazie Presidente io mi occupo solo del progetto di legge 23 07 primo sottoscrittore Magi solo per un paio di osservazioni e appare più rispondente una moderna concezione di reato che si attagli alla valutazione della situazione fenomenica degli stupefacenti e dell'utilizzo e abuso degli stupefacenti non si può legiferare in questa materia così delicata con una recrudescenza di reati senza sapere perché accade questo tutta la politica che abbiamo avuto in questi anni di aumento delle pene in realtà ha portato l'effetto opposto e cioè da avvocati penalisti noi assistiamo invece a un aumento della commissione dei reati di questo tipo in particolare di ragazzi molto giovani non solo minorenni ma anche appena maggiorenni l'investimento che deve fare la politica è anche quello a livello scolastico e cioè di indicare subito qual è il rischio penale i ragazzini non lo sanno ragazzi di buona famiglia che semplicemente scambiano pezzettini o pacchettini di hashish o di marijuana o quello che è senza avere idea di quali sono le conseguenze l'articolo 73 bis quindi rientra in questa nuova prospettiva che è pregevole si parla di casi di lieve entità meglio utilizzare un termine tecnico che è quella fatti di lieve entità non casi così come sono quantificate però le previsioni sanzionatorie possono avere il rischio di una valutazione costituzionale perché sono troppo sproporzionate rispetto ai casi di non lieve entità quindi anche questa è una cosa da tenere in conto soprattutto con riguardo le sentenze della corte costituzionale che ci sono state nel passato un commento sul coma 4 dell'articolo 73 bis di cui ha parlato anche il professor Rossi prima è una vera e propria causa di non punibilità si fa riferimento agli articoli 73, 74 e 75 segnalo però che può essere valido per l'articolo 73 il 74 riguarda l'associazione ai fini del traffico di sostanze inefficenti quindi faccio un po' fatica a pensare alla produzione casalinga finalizzata all'associazione a delinquere questa particolare associazione a delinquere il 75 invece è la non punibilità delle sanzioni cioè sono sanzioni amministrative e quindi è un ford'opera indicarlo nell'articolo 73 bis in ogni caso bisogna tenere presente che da poco le sezioni unite hanno superato il contrasto sempre da avvocato penalista vi segnalo che è stato necessario l'intervento alle sezioni unite perché a livello nazionale ogni giudice di merito stabiliva qual era la possibilità di uscirne da una coltivazione domestica c'era chi dice c'era il reato impossibile c'era chi dice no anche se tu coltivi comunque sei pericoloso per fortuna le sezioni unite hanno messo dei paletti che sono accettabili e che direi dovrebbero essere trasposti nell'articolo 73 nel nuovo articolo 73 bis quindi tutti i dati che riguardano la minima dimensione la forma domestica le rudimentali tecniche utilizzate lo scarso numero di piante perché nel testo di legge si fa riferimento a un limitato che appare però troppo discrezionale nella valutazione in concreto ci ritroveremmo alla stessa problematica e poi il modestissimo modesto per la verità quantitativo di prodotto ricavabile la mancanza di ulteriori indici di inserimento nel mercato e gli stuifacenti destinazione in via esclusiva all'uso personale del coltivatore non vi nascondo che a livello nazionale chi aveva tre piantine in un vasetto sul davanzale poteva essere sottoposto alla pena e condannato altri in altri tribunali veniva invece prosciolto per reato impossibile addirittura l'ultima notazione c'è un errore nel testo dell'articolo 2 il riferimento alla lettera H dell'articolo 380 del codice procedure penale al solo comma 5 dell'articolo 73 il cui richiamo viene soppresso deve essere sostituito con l'articolo 73 bis perché altrimenti significa che tutte le volte che hai un caso di lieve entità un fatto di lieve entità viene arrestato immediatamente cosa che invece nella relazione si vuole escludere quindi c'è una contraddizione immagino che sia come dire una sorta di obliterazione non valuta grazie presidente grazie avvocato Rubini allora raccogliamo le domande per gli interventi Bartolozzi modalità di lavoro raccogliamo appena tutte le domande dopodiché vi faccio reintervenire a seconda di chi ha ricevuto domande prego collega grazie presidente qualche domanda sul disegno sul quale si è soffermata l'avvocato il 2307 perché sul primo a me lascia seppur posso condividere anzi condivido assolutamente il principio però mi lascia perplesso la possibilità di escludere tutte le ipotesi di 73 quinto comma per esempio il 131 bis cioè la messa alla prova quindi lo ritengo perché veramente nel quinto comma stiamo parlando di cessione in tanto di sostanze tipo l'ascis che possono essere accertate come ecco il ragazzino che cede una canna all'amico quindi escludere a priori il 131 bis sinceramente vuol dire fare un passo indietro seppur condivido lo spirito di un maggior controllo ma lì si tratterebbe di affrontare il problema sotto il profilo della prevenzione piuttosto che non della punizione ma ho le stesse perplessità nella proposta di legge anzi più forti in realtà di quella dell'altra sulla 2307 perché non mi convince neanche e qui alla domanda l'idea di prevedere un 73 bis per le quali io applico indiscriminatamente quello che è il comma quinto del 73 all'ipotesi di cui primo secondo terzo sempre del 73 cioè considero per parlare il fatto di lieve dita nel caso di cessioni di droghe pesanti noi non possiamo pensare di isolare il fenomeno cioè il ragazzino che vende per ipotesi una dose di cocaina al compagno perché purtroppo specie sono ragazzi che sono sottoposti che fanno uso di queste sostanze la prassi la vita vissuta dimostra che essendo inseriti in un giro sono quasi sempre la comprono la cedono cioè fanno dell'assunzione anche un sistema di vita che gli costante poi di comprarsela quindi la usano e la vendono allora noi andando a prevedere come state facendo voi che in ogni caso di cessioni di droghe pesanti di lieve entità e poi concordo con quello che diceva l'avvocato che dire lieve ma poi ci tornerò sulla specifica non vuol dire niente limitata mi fa mi dà qualche profilo di perplessità forte quindi una ulteriore valutazione da parte dei due avvocati sul proprio sulla prima parte del 73 bis cioè quando dice che è sempre di lieve entità in tutti i casi di uno o due cioè quando si tratta di ripeto droghe pesanti è possibile prevedere che la cessione poi lieve entità lieve entità rispetto al fatto commesso può essere la cessione di una dose e poi magari questo proprio perché è inserito nel circuito due minuti non viene preso per la cessione di una e poi invece ce l'ha come prassi abituale quindi come fai a tipizzare così strettamente mi lascia veramente molto perplessa seconda domanda l'ipotesi del quando praticamente dice il secondo comma quando il diritto viene commesso da tossicodipendente il giudice laddove non sia già concedibile il beneficio della sospensione condizionale potrebbe dargli applicargli la pena del lavoro di pubblico utilità ma anche in questo caso a parte la previsione semplicemente dei casi per quello che prevedo quindi se per voi è corretto applicarla solo nei casi di perché qua ci vedo il parteggiamento il 444 o la sendenza di condanna e che vuol dire che se viene da dirittissimo o da altri casi di diritto alternativo l'abbreviato per esempio non è incluso cioè il fatto di prevedere il 444 mi fa pensare che esclude gli altri diritti alternativi allora mettiamo sempre i nipoti di condanna non solo 444 perché se no se specificiamo un rito alternativo probabilmente esclude tutti gli altri e quindi anche su questo un'altra osservazione e poi l'ultima domanda e chiudo sul numero 4 sempre la stessa proposta di legge condivido l'osservazione che correttamente secondo me faceva l'avvocato ma vorrei sentire anche cosa ne pensava lei perché dice non è punibile in senso il presento articolo e degli articoli 73 74 c'è l'associazione chi coltiva un numero limitato di piante si può pensare che chi fa parte di un'associazione dedita allo smercio di sostanze diufficenti coltiva un numero limitato di piante e l'ultima quindi la quarta se nel limitato andrebbero specificati quelli che sono gli indici elaborati alla gestione cioè infiorescenza altezza peso perché limitato potrebbe dire giustamente come dice lei tre piante e poi magari sono alte ne ha 15 alte 5 metri e non vuol dire niente quindi se lo mettiamo secondo me va esplicitato così come non mi pare voglia dire niente grazie grazie collega Bellucci sì grazie presidente intanto ringrazio gli auditi per le relazioni comunque puntuali e per aver studiato così attentamente queste proposte di legge io parto da una considerazione e poi faccio delle domande parto dalle considerazioni che la tossicodipendenza e quindi poi anche il traffico di sostanze estufacenti è un evento umano e come evento umano è caratterizzato da aspetti certamente di contrasto di canattere penalistico ma anche di carattere sociale educativo in più di una relazione mi sembra in tutte le relazioni se non erro si è fatto riferimento quindi all'aspetto educativo e culturale lei avvocato Rubini ha detto molto bene la conferenza non è celebrata ormai da 11 anni non è soltanto l'unica cosa che non viene rispettata per legge rispetto alla 309 oltre alla conferenza che non viene celebrata e dovrebbe essere celebrata per legge ogni tre anni noi non abbiamo neanche più la consulta degli esperti noi non abbiamo neanche più il sottosegretario delegato alle politiche antidroga a fronte di questo di una normativa fra l'altro la 309 del 90 che è vetusta di 30 anni e che è stata immaginata una legge estremamente sapiente capace di fare un'azione di sistema perché non si occupava soltanto di contrasto ma si occupava e si occupa anche dell'organizzazione dei servizi e quindi di immaginare un approccio alla tossicodipendenza e al traffico ovviamente delle sostanze stupefacenti che riguardasse l'uomo e l'umano nella sua interezza in questa è una legge illuminante nonostante ovviamente a vecchia di 30 anni perché si basava su un fenomeno delle tossicodipendenze classiche allora che erano caratterizzate dalla diffusione dell'eroina come ha detto lei bene molto bene prima dalla diffusione della cocaina poi certamente c'era anche la cannabis però in un panorama che era molto diverso e che sicuramente oggi non vedeva cioè allora non vedeva la presenza così diffusa e la presenza delle sostanze di carattere sintetico oltre alle armenidiche di cannabis a fronte di questo io da una parte diciamo che apprezzo l'interessamento a questa materia che è la materia della diffusione delle dipendenze patologiche in Italia legate da sostanze legali e illegali cioè quindi apprezzo l'attenzione pur tuttavia sottolineo il fatto che di nuovo ci troviamo in un'attenzione che riguarda soltanto la commissione giustizia da poco abbiamo esaminato il provvedimento che si occupava del contrasto del bullismo da poco abbiamo visto come quel provvedimento aveva delle gambe estremamente fragili perché aveva immaginato di affrontare il contrasto del bullismo soltanto con un intervento di tipo penalistico per poi allargare in maniera però permettetemelo di dire arraffazzonata noi con questo provvedimento continuiamo nello stesso solco nella stessa tradizione cioè quella di immaginare che fenomeni così complessi che riguardano aspetti sociali psicologici relazionali affettivi giuridici e anche penali si risolvino attraverso un intervento di carattere strettamente penalistico io come capogruppo di fratelli d'italia in commissione affari sociali ma ovviamente sono estremamente interessata a questo provvedimento e quindi ho chiesto di poterlo seguire anche in commissione giustizia ho presentato come prima firmataria insieme a altri miei colleghi una revisione della 309 perché certo che è necessaria a 30 anni di distanza perché i nostri servizi sono vetusti perché sono legati ad un'organizzazione che è fallace da tutti i punti di vista e perché sono l'ultimo fanalino di coda dell'attenzione del legislatore e poi degli amministratori locali quindi da questo punto di vista le vostre sapienti restituzioni le trovo estremamente preziose seppur ovviamente i proponenti rispetto a queste proposte di legge hanno inteso intervenire sulla problematica che è il traffico di stupefacenti e allora in cui io chiedo per quanto riguarda San Patrignano io chiedo esplicitamente oltre a ciò che non va in queste proposte di legge che hanno degli aspetti fallaci nell'uno e nell'altro caso io chiederei a San Patrignano qual è e se deve essere fatta una modifica alla 309 del 90 rispetto a questa parte cioè a quella sanzonatoria perché se non è così potrebbe anche essere che in realtà per alcuni operatori del settore esperti che praticano da decine di anni il contrasto alla diffusione delle dipendenze patologiche il recupero e il piano rinserimento lavorativo potrebbe anche essere che la normativa attuale va bene però in realtà dovrebbero essere cambiati altri istituti però su questo mi piacerebbe sapere chiaramente per poi non interpretare magari in maniera arbitraria quelle che possono essere le considerazioni e quindi verificare che tipo di intervento posto il fatto che io l'ho detto io una mia idea ce l'ho attraverso l'ascolto di numerosissime realtà e di questo ne ho fatto si rivolge alla presidenza cortesina sì mi scusi presidente una mia idea ce l'ho presidente quindi io una proposta l'ho fatta secondo me se l'obiettivo primo è quello di contrastare la diffusione di droghe e contrastare la diffusione di dipendenze patologiche perché questo è l'obiettivo di una previsione anche di tipo penalistico beh io una mia proposta l'ho fatta che è quella di ristrutturare la 309 del 90 agendo su altri aspetti che sono aspetti di carattere educativo culturale di riorganizzazione di servizi di risorse umane e di adempiere anche ciò che la legge prevede e che non viene applicato perché se noi oggi ci troviamo in una problematica di diffusione di droga è legata al fatto che c'è un assoluto sdoganamento dell'utilizzo di droga vado alla seconda invece relazione quella del signor Marco Rossi Presidente non la possibilità di avere una risposta rispetto a questo perché il professor Rossi ha evidenziato come c'è un effetto educativo rispetto all'effetto sanzonatorio che invece torna e diventa deflattivo nel caso in cui l'aspetto sanzonatorio non c'è e allora rispetto all'effetto educativo perché è importante perché le droghe circolano è una misura in cui vengono assunte vengono assunte perché si pensa che siano una risposta rispetto a dei propri buchi interni psicologici ed emotivi la droga fa male questo l'ho sentito poco dire cioè noi stiamo parlando di un fenomeno che dobbiamo definire come un fenomeno dannoso per la salute quindi a fronte del fatto che la droga è dannosa per la salute e questo va detto come si intende allora a questo punto intervenire per far sì che quell'aspetto educativo e culturale possa rientrare in una piega del legislatore che attui quindi un contrasto ed una prevenzione rispetto a qualcosa che fa male ed è pericoloso per la salute anche perché la legalizzazione ha anche un fenomeno che poi si vede in alcune proposizioni negli USA sono stati per esempio legalizzati farmaci antidolorifici sono stati legalizzati e sono presenti nella diffusione delle imprese private in ogni tipo di esercizio come quello delle farmacie e lì statisticamente c'è un aumento da un milione a undici milioni di tossicodipendenti per l'uso di questo tipo di sostanze c'è un ecadombe che ha fatto sì che c'è stato un aumento del 10% rispetto alle mortalità in Unione Europea a fronte della diffusione e della legalizzazione degli antidolorifici utilizzati ovviamente come sostanza stupefacente cioè come droga e quindi poi per andare a portare diciamo contenimento di aspetti di angoscia di ansia e quindi di problematiche e allora se questo è anche quello che porta la legalizzazione e poi la commercializzazione dal momento che nell'intervento del secondo relatore era riportato mi chiedo come possono essere contenuti questi aspetti di carattere educativo infine all'Unione delle Camere Penali chiedo al di là della critica fatta alla prima e alla seconda proposta di legge anche a voi chiedo ma che tipo di intervento quindi bisognerebbe attuare se è necessario attuare un intervento per quanto riguarda la revisione penale per verificare che ci sia attraverso un eventuale correttivo di carattere penalistico un contrasto alla diffusione delle droghe e quindi delle dipendenze patologiche grazie grazie invito i colleghi negli interventi a essere specifici nelle domande senza troppo circonnavigare l'argomento grazie 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 presidente sarò cercherò di essere breve volevo invece soffermarmi sulla proposta di legge 2160 quindi prima firma Molinari per quanto riguarda la soppressione della lettera H del comma 2 dell'articolo 380 volevo chiedere insomma sia alle camere penali che anche all'avvocato Morovasi se in realtà diciamo sicuramente l'intento dei proponenti è quello di un maggiore contrasto alla diffusione allo spaccio di sostanze stupefacenti se invece l'arresto obbligatorio in base alla vostra esperienza può essere un fattore che può andare a minare diciamo il contrasto allo spaccio di stupefacenti vengo e mi spiego ad esempio l'arresto obbligatorio magari nelle intagini di polizia anche di lieve entità potrebbe ad esempio disturbare quelle che sono le azioni di intagini che fa la polizia magari per risalire a chi è la fonte che va a procurare anche i microspacciatori se quindi effettivamente magari si si può reprimere più il fattore del microspaccio mentre può essere un fattore che può andare a danneggiare quelle che sono le intagini sul macrospaccio sulle sostanze stupefacenti e poi volevo chiedere sulla forbice invece del comma 5 che la proposta è da 3 a 6 anni è una multa da 5.000 a 20.000 euro se effettivamente il minimo risulta molto sproporzionato e la forbice è anche abbastanza alta da 5.000 a 20.000 e da 3 a 6 anni se anche questa ipotesi potrebbe essere anche incostituzionale una forbice così ampia grazie grazie potenti si la ringrazio presidente molto rapidamente rispetto all'intervento del professor Rossi che elogio per la capacità di sintetizzare in poco tempo importanti concetti ha toccato l'argomento della fiscalità la droga fa male ritengo e il fisco forse di più volevo domandare visto che ha toccato un argomento in maniera molto coraggiosa di cui forse spesso si ha anche paura ad entrare nel merito cosa ne pensa della idea che non è più solo un'idea perché è già stata concretizzata della fiscalità della ricchezza illecita ovvero sia quel metodo che è stato studiato sperimentato e attuato dalla guardia di finanza nel momento in cui i redditi così presuntivi calcolati dal appunto guadagno dello spacciatore rispetto alla sua attività sono stati quindi calcolati connessi agli obblighi contabili e agli obblighi dichiarativi quindi quale efficacia potrebbe avere in concreto non tanto una responsabilità più e soltanto penale ma una responsabilità patrimoniale quindi che dovrebbe costringere a considerare anche gli effetti sui futuri eredi dello spacciatore cioè non si dice più si muore e muore e chiuso il discorso cioè quello trasmette anche i suoi problemi fiscali ai suoi futuri aventi causa come figli moglie cioè capire ecco se si possa andare in questa direzione grazie bene allora direi di andare con ordine partiamo dall'avvocato prego perdono Maggi grazie presidente ma un ringraziamento anche da parte mia agli auditi e anche per le segnalazioni ovviamente delle parti del testo in cui ci sono anche degli errori materiali premettendo solo che sono d'accordo con i colleghi che la materia meriterebbe come dire un approccio quantomeno multidisciplinare però noi qui siamo di fronte all'approccio penalistico perché purtroppo nel nostro paese è soprattutto se non esclusivamente in maniera penalistica che è stato affrontato il fenomeno della diffusione delle sostanze stupefacenti 30 anni diciamo così di guerra alla droga che si sono tradotti sempre per utilizzare diciamo una sintesi in guerra sostanzialmente ai consumatori e diciamo con pochi scarsi effetti rispetto a organizzazioni dedicate al commercio al traffico di sostanze stupefacenti la invece chiedo proprio un supporto di tipo tecnico allora il riferimento nel comma 4 del parlo della proposta 23 07 all'articolo 74 e quindi all'associazione è effettivamente come dire un eccesso diciamo di zelo o di difficoltà che fa riferimento ad alcune legislazioni nelle quali si è prevista ad esempio la forma della coltivazione associata e in altri paesi è stata disciplinata l'associazione in forma singola diciamo fatta dal singolo cittadino ed associata allora qua noi ci troviamo in un terreno nuovo e diciamo è chiaro che questa non può e non potrebbe essere una formulazione definitiva ma è un'indicazione per dire qualora decidessimo di andare avanti e di adottare un testo base teniamo anche presente che c'è quella possibilità e non deve poter incorrere magari chi fa la coltivazione limitata ma in forma associata a un reato associativo della gravità che noi sappiamo essere quello dell'articolo 74 diciamo il supporto di tipo tecnico che vi chiedo è invece rispetto all'espressione un numero limitato di piante a vostro avviso quale sarebbe il modo migliore per sciogliere questa cosa con un riferimento al peso proprio da un punto di vista tecnico giuridico per evitare poi di entrare in un altro terreno in cui le interpretazioni magari differenti di vari tribunali ci portino a nuovi problemi grazie nessun altro io precedente una battuta su questo intervento è sempre il professore riferimento alle piante o al principio attivo perché sappiamo che le erbe geneticamente modificate che vengono dall'Albania hanno un principio attivo di 10 15 anche 20 volte superiore quindi il concetto di pianta mi pare superato grazie con ordine ripartiamo dall'avvocato malavasi per la sua replica grazie presidente con ordine se ho ben capito le domande rispondo prima all'onorevole capogruppo dei fratelli d'italia cosa fare lo ripeto in maniera chiara e semplice perché se no il rischio è di appesantire i nostri interventi bisogna avere un approccio integrato al problema droga bisogna che tutta la situazione venga gestita in maniera complessiva al fine di consentire senz'altro la repressione dei legati collegati all'uso delle sostanze stupefacenti ma dando a questi soggetti tossicodipendenti che il più delle volte non vanno in carcere solo esclusivamente per delle ipotesi lievi vanno in carcere per reati collegati rapine furti quant'altro che li portano in carcere cioè non è che noi possiamo di punto in bianco avere una norma penale che usando una bacchetta magica risolve tutti i problemi per quanto riguarda San Patrignano noi ovviamente non abbiamo una ricetta ci sono tantissimi soggetti all'interno delle carceri che hanno problemi di tossicodipendenza e non solo ed esclusivamente ci tengo a sottolinearlo detenuti per ipotesi lievi dell'articolo 73 rinforziamo le strutture che possono accoglierli per consentire agli stessi attraverso le norme che già ci sono segnaliamo l'articolo 94 del DPR 309-90 l'articolo 90 misure alternative alla detenzione che passino attraverso un progetto di recupero che possa aiutarli a superare le problematiche collegate al proprio stato di tossicodipendenza dipendenza questa è l'unica cosa che noi vediamo perché una norma penale a sé stante non risolve niente voi dovete saperlo abbiamo visto nell'ambito della prescrizione non esiste una norma spot che possa risolvere tutti i problemi il problema esiste qua forse ci arrovelliamo a studi io vi posso dire la mia esperienza ci sono all'interno della comunità di San Patrignano 2000 soggetti che stanno portando avanti un percorso di recupero la stragrande maggioranza sono tutti giovanissimi e lì cercano di ricostruire un proprio percorso dove non sicuramente per scontare la pena per superare le problematiche legate al loro stato di tossicodipendenza vogliamo risolvere un po' il problema delle carceri diamo la possibilità a soggetti detenuti che possono accedere a un programma terapeutico perché tanto se li lasciamo fuori io non vedo un soggetto tossicodipendente o gli diamo quantitativi di sostanza stupefacente che lo distruggono oppure ritornerà a portare avanti un approccio integrato un esempio ho già detto questo nella legge Fini-Giovanardi al quale noi partecipiamo alla stesura senz'altro c'era un'attività repressiva delle ipotesi di spaccio ma sono state inserite tantissime norme finalizzate a migliorare i percorsi di recupero che sono a mio modo di vedere l'unica ricetta possibile rispiego sul 21-60 idealmente io mi sento vicino al io capisco che i redattori della proposta di legge la loro idea ma a sé stante così non porterà a nulla mentre invece sono anche per la struttura che rappresento assolutamente contrario a dare un messaggio ai giovani cioè il messaggio ai giovani parrebbe quasi scusatemi ma lo diciamo per essere molto chiari sembrerebbe che la repressione ha portato più l'uso dei giovani di sostanze stupefacenti diciamo a 14-15 anni delle diciamo il cosiddetto droghe leggeri no perché il messaggio che è partito in tutti questi anni è che quel tipo di la spinello chiamiamolo così la droga leggera non fa male se noi continuiamo in questa in questa riga secondo noi è sbagliato e poi i risultati lo fanno poi parlano da solo ripeto ci deve essere un atteggiamento integrato che possa io non so noi parliamo della commissione giustizia ripeto ma lo dico in maniera chiara una norma spot non risolverà il problema grazie avvocato Malavasi il dottor Rossi per la sua replica sì sono diversi punti in causa spero che mi date un paio di minuti in più per parlarne prima obiezione mi dispiace onorevole deputato di fratelli d'italia ma la storia ci insegna che l'effetto palla funziona in entrambi i sensi ovvero sì la dimensione della palla rimane lo stesso in seguito della legalizzazione degli alcolici negli Stati Uniti non vi fu un aumento del consumo degli alcolici in seguito della legalizzazione della cannabis in Olanda non vi è stato un aumento del consumo di cannabis in Olanda almeno nel medio e lungo termine e recentemente in seguito all'aumento della legalizzazione di cannabis in Colorado non vi è stato un aumento dei consumi tra la popolazione in Colorado quindi mi dispiace doverla contraddire ma la storia non le dà ragione sì lei ha rifletto un'altra statistica che si riferisce a un altro caso evitiamo di interloquire con gli auditi per cortesia prego prosegua con la sua replica si riguardava un medicinale vedrò gli stupefacenti che prima sono stati vietati e poi rilegalizzati per quanto riguarda viceversa le domande del rappresentante della Lega io non ho ben capito il suo intervento sinceramente però da quello che ho capito mi pare che queste intenzioni rientri nel caso di aumento del costo atteso delle sanzioni in buona sostanza sì cioè la sanzione la pago io la pago ai miei figli su base fiscale diversamente dalla responsabilità penale che è personale una responsabilità di natura debitoria verso lo Stato per l'ordine dei lavori il dibattito in questa fase lo eviterei comunque prego speriamo di aver capito il risultato dovrebbe essere quello di un aumento del costo atteso delle transazioni che eventualmente si ribalta sul prezzo di offerta come dicevamo in precedenza però consente anche la riscossione di un dividendo fiscale sebbene in maniera abbastanza complessa e quindi va nel senso se vuole della legalizzazione e contrastazione lo spirito è simile però il campo di applicazione un po' mi lascia dei dubbi perché come si può applicare una sanzione leggera al piccolo spacciatore professionista immigrato irregolare quello che denuncia non sapere tecnicamente come si realizza e poi sono stati i casi e viceversa di abusi di utilizzi di strumenti simili per quanto concerne la California sia le Stati Uniti che la California messicana ovvero sia che le forze di polizia hanno abusato di questa modalità di sequestro dei patrimoni dei presunti narcotrafficanti rapidamente poi vado alla Maggi ecco la risposta che io posso darle onorevole Maggi è che secondo me l'unica soluzione è il metro cubo il volume perché sulla base di una lungo studio della coltivazione domestica oramai ultra trentennale l'unica cosa che conta è il volume più che la superficie è il volume in cui viene coltivata e come dicevo prima due metri cubi sono sufficienti per il consumo di un consumatore abituale all'interno la numerosità non c'entra nulla perché esistono adesso tecniche in idroponica e aeroponica dove tu hai tante piantine decine di piantine gli danno lo stesso raccolto più controllabile e di qualità migliore rispetto a una singola pianta arriviamo adesso all'ultimo obiezione che è molto più complessa riguarda il THC e qui la questione è molto più complessa allora intanto posso dirle che osservando l'andamento del mercato vi è stata una moda nell'aumento del THC della cannabis che però è durata qualche anno e si è interrotta alcuni anni or sono le varietà di cannabis più diffuse più in commercio adesso di semi di THC più diffusi hanno un contenuto compreso fra i 15 massimo 20% lì si è stabilizzato poi però bisogna di parlare di un'altra cosa il fatto che il mercato della cannabis è dicotomico abbiamo consumatori occasionali che cercano lo sballo e cercano quindi la cannabis ad alto contenuto di THC e i consumatori abituali che viceversa fanno un uso se mi permettete consapevole controllato e quindi non coltivano una cannabis ad un altissimo potenziale perché poi tanto non se la fumano coltivano una cannabis ad un potenziale modesto quindi considerando che la coltivazione domestica è quasi esclusivamente dei consumatori abituali e non dei consumatori occasionali il problema secondo me è molto modesto si pone in maniera molto modesta rimane il tema della contraffazione quindi dell'elevato livello di THC nello spaccio di strada questo sì ma perché ripeto lo spaccio di strada è prevalentemente rivolto a ragazzi che cercano lo sballo e tipicamente associano più sostanze insieme a fine di raggiungere il massimo high possibile che sia THC che sia alcol che sia cocaina non importa ma quello è un altro mercato sono due mercati ben diversi terminato grazie ho la replica per l'unione delle camere penali prima l'avvocato Rubini poi l'avvocato Baffi cercate di essere grazie presidente sarò veloce allora la prima critica riguarda critica osservazione fatti riguardanti le droghe pesanti come si fa tipizzare segnalo che nell'articolo 73 bis non si fa riferimento solo alla tipologia della droga ma si fa riferimento per qualificare il fatto come di lieve entità tutta una serie di circostanze già nella giurisprudenza il fatto che si detenga per fini di cessione delle sostanze pesanti non basta per qualificarle o meno come di lieve entità bisogna verificare appunto i mezzi quindi se c'hai la sostanza da taglio se c'hai il bilancino se c'hai tutta una serie di mezzi necessari per fare le dosi le modalità le circostanze dell'azione quindi non è per così dire un transcian nel fatto di parlare di droghe pesanti quindi secondo me è un non problema ancora sentenza di condanna o 444 quindi applicazione della pena nel nostro ordinamento la sentenza che è l'articolo 444 non è una sentenza di condanna e quindi è giusta e corretta la distinzione fra queste due tipologie quando si parla di sentenza di condanna può essere anche l'esito di un giudizio abbreviato il giudizio abbreviato è sempre un giudizio di merito che porta a una sentenza di condanna quindi anche questo è un problema non per così dire superato dal punto di vista giuridico ancora l'articolo 74 quando si parla del numero limitato di piante tenete presente che quando si tratta di fatti di lieve entità quasi mai si procede a una consulenza tossicologica perché bisogna pensare che sono spese quindi quando vedono i magistrati pubblici ministeri non fanno la consulenza tecnica quindi guardano ai tre vasetti soluzione può essere il metro cubo teniamo presente che pochi sanno che sono solo le femmine che hanno le piante femmine che hanno il THC quindi mi sono trovata a difendere una persona che aveva i classici tre vasetti tre piantine erano tutti maschi ma se io l'ho segnalato al pubblico ministero gli ho detto verifichi perché mi aveva assistito mi diceva guarda che sono maschi non sono femmine non avevo ancora avuto il tempo di piantare le femmine in bontà sua e quindi anche questo è un dato che va preso in considerazione per quanto riguarda invece l'articolo 74 quindi l'associazione con coltivazione in cooperazione cioè l'articolo 110 del codice penale guardate c'è già il consumo di gruppo che è stato costruito dalla giurisprudenza come ipotesi con determinate condizioni di non punibilità il 110 può essere di soccorso quando gli amichetti fidanzati i conviventi i marito e moglie si fanno il consumo in casa quindi non mi pare che anche questo possa essere un problema quanto invece ai dati estrinseci per vedere se effettivamente abbiamo una coltivazione non punibile io direi come ho detto prima che quello che hanno detto le sezioni unite è veramente utile quindi attestiamoci su quello perché le sezioni unite hanno fatto una riduzione ad unum di varie casistiche che ormai sono di anni e quindi hanno cercato di mettere il punto zero a questo tipo di fattispecie che non è poi così come dire limitata nella prassa applicativa dei tribunali come si potrebbe pensare perché ripeto ormai il consumatore abituale vuole la qualità è giusto quello che diceva il professor Rossi vuole la qualità e quindi anche una persona tra virgolette normale non vuole avere a che fare con la delinquenza te lo fai in casa e fine la trasmissione ecco bene Rubini Baffi ci siamo ci siamo è un odore per me allora io quindi passo alle risposte all'onore Bellucci è ovvio che il fenomeno non si possa ricondurre al solo sorvegliare e punire questa riforma nel 1990 l'ha scritta Giuliano Vassalli non l'ha scritta uno qualunque e se si vanno a riguardare i lavori parlamentari di quell'epoca ci si rende conto di tutto quel che c'è dietro quella riforma sono dei lavori parlamentari che io invito ad andare a guardare perché c'è tanto da capire ancora oggi tanto da capire ancora oggi c'è da capire ancora oggi ed era uno dei propositi della riforma di ragionare in ambito penalistico sul criminal justice system che va dalla prevenzione all'esecuzione questo per quel che riguarda il solo ambito penalistico poi c'era l'estensione a problematiche di affari sociali ed è così che va affrontato ma comunque in ambito penalistico si deve partire dalla prevenzione e arrivare all'esecuzione sono state poche le attenzioni all'esecuzione e sono state affidate ai singoli io cito sempre un esempio che troverete anche nel documento di accompagnamento che depositeremo che è un mai troppo compianto psicoterapeuta milanese si chiamava Dario Foa Dario Foa era il direttore del servizio dipendenze dell'ASL di Milano che creò il primo cert tribunale primo cert in un tribunale quell'esperienza è stata replicata in altri in altri tribunali oltre Milano cioè Padova Roma Catania e Reggio chiusi per mancanza di fondi è rimasto solo a Genova oltre che a Milano allora è evidente che l'investimento non lo possiamo fare solo nella repressione non lo possiamo fare nella repressione anche perché Milano ci dà dei dati interessanti Milano intercetta ogni anno dati del 2018 600 tossicodipendenti consumatori con problemi giudiziari articolo 89 e articolo 94 circa tra 200 e 250 riescono a passare in detenzione domiciliare questo è un dato importante è un dato su cui ragionare quantomeno in termini di spese di giustizia e che sappiamo benissimo che nessuno di tutti questi si riuscirà mai a pagare nell'arco della propria vita passo avanti il correttivo penale il correttivo penale dovrebbe essere l'extrema razio sappiamo chiunque abbia messo piede in un tribunale penale davanti a un giudice monocratico quale sia il peso della sanzione penale anche per condotte di minima offensività perché oggi in un sistema estremamente tassativizzato è comunque difficile riuscire a trovare un magistrato che guardi al principio di offensività e quindi per questo l'idea generale che ben venga una tassativizzazione del 73 con il 73 bis rispetto al quale mi permetto di dire non so se interpreto giustamente la voluntas legis dell'onorevole Maggi probabilmente si è voluto introdurre in un articolo parallelo una questione che è diventata di un titolo autonomo di reato e non più di una fattispecie attenuata quindi in termini sistematici l'opzione può essere corretta faccio un salto indietro prima che l'onorevole Maggi rispondesse alla questione dell'articolo 74 io avevo segnato il termine cooperative perché perché è estremamente probabile io non conosco la voluntas legis ora la conosco un po' meglio grazie al suo intervento c'è una questione giustizialistica alla quale non sono assolutamente in grado di rispondere estremamente importante perché a quel punto il fine diverrebbe lecito e sarebbe possibile in astratto la cooperativa almeno in astratto ma non è mia materia passiamo avanti alla risposta l'onorevole Saitta per la questione delle indagini di polizia giudiziaria rispetto alla lettera H e la possibilità di espungere il comma 5 dalla deroga è indubbiamente vero due sono i modi di fare le indagini di polizia giudiziaria o in progressione ascendente partendo dal pesce piccolo arrivando dal pesce grande o in progressione discendente partendo dal pesce grande arrivando dal pesce piccolo in termini di ricaduta e di costi per la collettività l'abrogazione della deroga per il quinto comma la lettera H e 380 sarebbe una vera e propria tragedia non un disastro per il funzionamento quotidiano del sistema giustizia e sarebbe più in là un disastro anche per l'esecuzione per il sistema carcerario perché non bisogna calcolare l'unatantum di quello che si brucia la condizionale in questa maniera ma bisogna calcolare un cumulo di pene e probabilmente il numero di soggetti che finirebbe in carcere per delle condotte seriali per questa roba sarebbe altissimo anche perché perde la pena sospesa quindi non serve che vada in carcere altre brevissime notazioni per quel che riguarda il principio attivo la questione del principio attivo di cui all'ultima domanda è del 30 gennaio la sentenza delle sezioni unite di cui è dato sapere ora solo l'informazione provvisoria perché le motivazioni non sono ancora state depositate e le sezioni unite hanno detto che mantengono validità i criteri di individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante e la quantità ingente delle sostanze stupefacenti e qui il dato importante che con riferimento alle droghe leggere rimane fissata in due chili di principio attivo tonnellate piccolo passo indietro rispetto a un tema che è veramente l'ultima risposta due piccoli passi indietro rispetto a temi che sono emersi e abbastanza comuni lavoro di pubblica utilità il lavoro di pubblica utilità andrebbe incentivato non andrebbe disincentivato o abrogato per via legislativa perché dove c'è un bene importante come quello della proprietà del veicolo in caso di assenza di incidenti nei lavori del quel che riguarda il codice della strada i lavori di pubblica utilità nell'anno 2017 sono stati di 14.940 quelli per violazione di legge e gli stupefacenti 891 il sistema andrebbe incentivato quando c'è una motivazione forte il rimedio funziona ora probabilmente la motivazione non è sufficientemente forte ma bisognerebbe aiutare i magistrati a farlo infine riguardo mi permetto alle questioni relative alla tematica di legalizzazione delle droghe reggere io invito a leggere i dati dello European Drug Report Transcend Development 2019 e anche del 2018 perché i dati ci dicono due cose molto diverse sia sul consumo quantitativo che sul consumo qualitativo dell'esperienza europea solo l'esperienza europea il quantitativo diminuisce la qualità aumenta il principio attivo diminuisce sono indagini statistiche io non sono uno statistico non mi occupo di statistica ma sia quello sia le indagini economiche quelle econometriche ci riportano dati che sono stati magistralmente esposti dal professor Rossi quindi rispetto a questo tema lo studio comparativistico e di qui la mozione alla conferenza nazionale rispetto all'articolo 1 appare un'opzione di metodo che ci si augura anche la commissione possa da parte del capo che anche la commissione possa in qualche modo sollecitare grazie faremo avere un documento benissimo bene non appena sarà nei nostri uffici lo distribuiremo ai nostri colleghi perfetto bene ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione grazie 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 a tutti grazie a tutti